Vecchi rancori e tensioni sono ormai solo un ricordo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno ritrovato la serenità dopo la burrascosa separazione. Stavolta Vecchi rancori e tensioni sono ormai solo un ricordo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno ritrovato la serenità dopo la burrascosa separazione. Stavolta L'ex coppia, però, è riuscita a ristabilire un nuovo equilibrio per il figlio Santiago, che sarà sempre la loro. Proprio pochi giorni fa erano stati paparazzati mentre uscivano da casa dello showman, a Milano, e andavano insieme a prendere i loro santi a scuola, e ancora durante una passeggiata tutti proprio pochi giorni. Ed eccoli di nuovo insieme, ieri, per il compleanno del figlio. Santiago ha compiuto 11 anni e ha festeggiato con gli amici in un parchetto, hamburger e calcio, questi gli ingredienti. E poi il regalo dei genitori, una bellissima bicicletta anni 80. Poche immagini, pubblicate tra le storie Instagram, ma nessun post né dei di entrambi hanno deciso di tenere lontano dal gossip il loro rapporto, che oggi ha una forma diversa, ma soprattutto la cosa più preziosa di tutte, il figlio.